ciao a tutti amici e benvenuti anche oggi nel mio canale quest'oggi per voi ricetta vi propongo questi buonissimi biscotti gli abbracci una ricetta davvero facile da preparare ma un sapore delizioso un'idea carina anche per fare un piccolo pensierino ma cosa serve per preparare questi buonissimi biscotti iniziamo ad elencare gli ingredienti grazie a tutti ho già messo il burro poi aggiungo la farina lo zucchero mezza bustina di lievito per dolci mezza bustina di zucchero vanigliato un cucchiaio e mezzo di panna per dolci che non deve essere montata e infine aggiungo l'uovo impasto il tutto per 20 secondi alla velocità 5 lasciate riposare l'impasto dentro un sacchetto per alimenti in frigo per almeno un'ora per l'impasto scuro invece stesso procedimento di prima di mettere tutti gli ingredienti dopo di che aggiungete il cacao impastate come prima a velocità 5 per 20 secondi anche in questo caso lascio riposare la pasta dentro un sacchetto per alimenti o pellicola trasparente in frigorifero per un'ora con un po di farina su un piano da lavoro allungate la pasta sia la bianca che la nera tagliate dei piccoli pezzettini così e li unite in questo modo mettete su una teglia rivestita con carta da forno infornare a 200 gradi per 10 minuti circa ecco qui amici il risultato finale sono davvero buonissimi provate anche oggi questa ricetta se la ricetta ti è piaciuta ti invito a lasciare un bel like se è la prima volta che passi da qui ad iscriverti al canale perché ogni settimana ci sono sempre video nuovi condividi questa ricetta con chi ti fa piacere da di tutto e di più è tutto e vi aspetto presto al prossimo video ciao a tutti ciao